La vita è un crepaccio in cui precipiti mentre sei a sciare sulle Dolomiti, perdendo conoscenza e risvegliandoti qualche ora dopo sepolto dalla neve fino al collo. Ma per fortuna, ti trovi davanti un rassicurante San Bernardo, dalla cui targetta intuisci chiamarsi Alfredo e che porta appesa l'immancabile botte di grappa. Alfredo comincia a scavare, in apparenza per liberarti dalla neve, ma ti rendi presto conto che si sta impegnando soltanto ad esporre i tuoi glutei e allora gli fai... Ok, va bene, visto che qua ho già capito come andrà a finire, potresti almeno darmi un sorso di quella grappa? E allora Alfredo ti risponde con voce pacata che... Senti, guarda, non hai capito un cazzo. La grappa è per me, perché io senza grappa sotto il 5 non riesco a scopare e tu sei un... no, un 4 scarso, un 4 e mezzo, guarda, perché con sta tutina da sci non stai malaccio. E per fortuna che hai il passamontagna, perché sennò dovevo finirla tutta. E... e... comunque... è barricata. Così, mentre senti la sua... ...caninità ad entrarsi fra i tuoi glutei ormai intorpiditi dal gelo, ti consoli, pensando che in fondo anche Alfredo è vittima del sistema e che quell'amore che ti sta dando, freddo e spoglio come un albero in autunno, è l'unica forma d'affetto concreta e sincera che conoscerai per tutta la tua vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!